A parte che Hilary Brasi sembra veramente il cheno umano, io non penso che per me sia una donna più blu che esista sulla faccia della terra. Sembra sconvolta. Dici, 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 ah ecco, chiedetemi se Fedez è gay, allora, ora vi rispondo su Fedez, appena arriviamo a 2.000, anzi a 3.000, se arrivate a 3.000 vi dico la verità su Fedez, aspetto 30 secondi, vi dico tutta la verità su Fedez, siamo a 2.600, se arriviamo a 3.000 in 3 minuti. Perché mi hanno raccontato una volta, una serata, nel frattempo salite, una volta a casa mia abbiamo fatto una festa quando ero single, eravamo 6-7 e in questa festa c'erano due persone di cui una di queste era stata ospite a Moschio Selvaggio, se è arrivata a 3.000 non mi posso dire la verità, quindi questa tipa era stata a Moschio Selvaggio e si era portata un'altra amica, Moschio Selvaggio ai tempi conducevano Fedez e la Ferrane, Fedez e il grande Luis Sal, quello della mamma e l'avvocato, finisce la diretta, se non è arrivata a 3.000 non ve lo dico, finisce la diretta e rimangono i quattro, Fedez, Luis Sal e queste due persone, se arriviamo a 3.000 io vi dico cosa hanno fatto queste due persone, siamo a 2.800, queste due persone di cui una era una ragazza, cantante, ai tempi famosa, molto porca, e l'amica di questo cantante, ai tempi era un transessuale, oggi non è più un transessuale, perché ho operato, non no 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 no, bug non può più parlare di queste cose, fine, fine, stop amore, fine, fine!